Amici e amici di Rossini TV, benvenute e benvenuti anche questa sera sul canale 80 del Digitale Terrestre. Abbiamo l'opportunità di parlare di una questione davvero molto interessante grazie alla CNA di Pesaro Urbino che ha voluto organizzare con noi una tavola rotonda sul Covid e sul post-Covid. E per parlare di questo nei nostri studi abbiamo tre ospiti, il primo dei quali è il dottor Massimiliano Lucchetti che è il direttore di Master Quality. Buonasera. Buonasera a tutti. Il secondo ospite è un medico, il dottor Gerlando Davide Schembri che è un medico chirurgo che fa parte della Commissione Salute e Ambiente dell'Ordine dei Medici ed è un collaboratore di Master Quality. Dottore buonasera. Buonasera a voi. E ultima in ordine di denominazione Lucia Sgarzini che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa, direttore della sede di Pesaro di Confidi Unico con la quale entreremo poi in termini molto pratici. Buonasera. Bene, prima di cominciare la nostra chiacchierata lasciamo la parola adesso a Moreno Bordoni che è il segretario di CNA Pesaro Urbino che illustrerà con le sue parole in cosa consiste poi in realtà il progetto SOS Covid Imprese e di cosa si tratta quando si parla di Master Quality. SOS Post Covid Imprese è un progetto giunto ormai al suo secondo anno di attività e gestito completamente dalla Master Quality che è la società della CNA di Pesaro Urbino che si occupa di Ambiente, Sicurezza e Medicina del Lavoro. Sostanzialmente questa attività ha un obiettivo importante, quello di tutelare la salute dei lavoratori per le problematiche relative al Covid-19. Come fare tutto ciò? Fondamentalmente con tre attività, si inizia con un sopralluogo presso le imprese per poi stilare il relativo protocollo di sicurezza e infine una puntuale attività di formazione e informazione fatta ai datori di lavoro, ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori stessi. Quindi abbiamo capito in questi due anni e mezzo di pandemia che la migliore attività per limitare gli effetti e anche la diffusione del coronavirus è proprio la prevenzione. Ruolo fondamentale in questo progetto ce l'avrà il medico competente sia per la stesura di protocolli di sicurezza ma soprattutto per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Non mi rimane che invitarvi presso i nostri uffici di Master Quality dove verrete ovviamente accolti con cordialità e con la necessaria e dovuta competenza e professionalità. Benissimo, cominciamo la nostra chiacchierata perché sono cambiate le cose, sono passati quasi tre anni da quel febbraio del 2020 in cui tutto ha avuto inizio, una pandemia che ha condizionato la nostra esistenza si può dire per 34 mesi, siamo al 34esimo mese e oggi vogliamo entrare nel merito di come in realtà la CNA ha proposto e ha realizzato un servizio innovativo che non a caso si chiama SOS Covid Imprese e del quale ci parlerà adesso in un primo momento il dottor Lucchetti. Innanzitutto che cos'è Master Quality? Master Quality è la società della CNA di Pesero Urbino che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro e si occupa di medicina nei luoghi di lavoro, ambiente e formazione, quindi è incentrata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed è una società controllata da CNA? Sì, CNA è la proprietà della società e la società che per la CNA svolge tutti i servizi inerenti alla sicurezza del lavoro per gli artigiani iscritti alla CNA e non solo. E quindi è stata affrontata questa emergenza Covid attraverso anche l'aiuto di una struttura come la vostra. Certo, perché la nostra mission è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di essere di supporto ai datori di lavoro per tutte le incombenze che hanno per la normativa e poi dobbiamo anche assistere anche ai datori di lavoro per tutto quello che riguarda la formazione, la sorveglianza sanitaria, tutte le tematiche legate all'ambiente e quindi la nostra è una struttura che esegue tutte le incombenze burocratiche ma anche sostanziali all'interno dei luoghi di lavoro. Ed è una struttura alla quale poter far riferimento le imprese iscritte alla CNA possono tranquillamente fare riferimento a voi per tutta una serie di servizi. Certo, non solo che possono far riferimento ma siamo noi sempre ad informare tutti i nostri associati quanto c'è magari una nuova normativa per gli adempimenti che devono effettuare e un supporto tutti i giorni per tutto quello che riguarda il mondo del lavoro legato alla sicurezza. Molto brevemente, dottor Lucchetti, come è stata affrontata in un primo proprio d'emblè l'emergenza nel gennaio del 2020 e oggi questa fase che per certi versi cominciamo a definire post-covid. Mi ricordo che inizialmente è stato un vero e proprio trauma sotto tutti gli aspetti perché tutti ci siamo trovati in un momento dove non conoscevamo come affrontare le problematiche e dai primi di PCM abbiamo lavorato sempre anche fino alla sera tardi, fino a mezzanotte proprio per essere di supporto in maniera tempestiva ai nostri artigiani che hanno dimostrato una volta, per l'ennesima volta, di essere veramente persone che tengono in maniera spropositata al loro lavoro, alle loro imprese e ai loro dipendenti in maniera veramente qualche volta anche commovente. Ha nominato questo vocabolo di PCM che per tanti mesi ci svegliavamo la mattina con i telegiornali, con i giornali e leggevamo di nuovi di PCM. Ovviamente una struttura come Master Quality cosa fa? Si rivolge poi a professionisti, professionisti importanti, per attuare quelle che sono le direttive dei suoi servizi e in questo caso credo che possiamo dire in riferimento al medico. Certo, poi come dicevo la Master Quality è una struttura costituita da molti tecnici esperti e all'interno abbiamo una struttura autorizzata dalla regione Marche che è proprio effetto alla sorveglianza sanitaria e in questo diciamo per quel che riguarda il Covid ovviamente è stato fondamentale il supporto della nostra struttura sanitaria e dei nostri medici, ricordo anche gli altri medici, il dottor Mosca che è il nostro direttore sanitario e tutti gli altri collaboratori dal dottor Panico, dottor Del Bene, San Paoli e poi anche altri medici che magari collaborano con noi in maniera continuativa. E noi questa sera abbiamo il dottor Gerlando Davide Schembri che abbiamo già avuto modo di incontrare in altre situazioni, è molto conosciuto perché è bravo, sa tante cose, sa come trasmetterle e quindi sa anche come intervenire nelle situazioni che lo riguardano professionalmente perché lui è un medico del lavoro, fra virgolette, questa definizione che magari potremmo capirla meglio dottore, cosa significa esattamente? Sì, intanto mi sto specializzando in medicina del lavoro, così lo chiarisco. No, la medicina del lavoro è molto importante perché, anche sottovalutata, perché dobbiamo considerare che l'ambiente di lavoro è quello in cui viviamo il maggior numero di ore durante la giornata e quindi i determinanti della salute, della nostra salute nell'ambiente di lavoro sono importantissimi. Spesso quando il medico fa la famosa anamnesi, non fa l'anamnesi lavorativa, cioè non chiede che lavoro fai e questo è fondamentale proprio perché un terzo della vita noi lavoriamo. Il ruolo del medico del lavoro, del medico competente è proprio quello di fare un'attività di prevenzione e anche di promozione della salute, con la differenza che la prevenzione è obbligatoria, cioè lo deve fare altrimenti è sanzionato. Ci sono proprio degli organi di vigilanza che appunto vigilano su questo, fanno sì che il medico competente attui la prevenzione, quindi la sorveglianza sanitaria, per evitare che il lavoratore vada incontro a un problema di malattia professionale, ridurre gli infortuni oppure peggiorare malattie preesistenti e questo è obbligatorio. Mentre un'altra parte è quella della promozione della salute nei luoghi di lavoro e il luogo di lavoro è il posto proprio migliore per fare questo perché il medico del lavoro, il medico competente vede almeno una volta all'anno, tranne qualche lavoro particolare, sempre il lavoratore, ha una cartella clinica dove ha tutti i dati e quindi ha uno storico che per certi versi batte in certo qual modo il medico di famiglia al quale un soggetto può anche non andare magari per due anni perché sta bene o non ci si rivolge. Quindi diciamo il medico competente ha un polso della situazione della salute dal punto di vista anche sociale molto più importante e più diciamo determinante nel poter agire e attuare la sorveglianza sanitaria. Al di là delle notizie di cronaca che tutti i giorni leggiamo legate purtroppo agli infortuni sul lavoro che sono tantissimi e purtroppo non diminuiscono, nel caso della pandemia poi ovviamente si è dovuti affrontare una situazione totalmente nuova e con tantissime cose da predisporre in pochissimo tempo dottore. Assolutamente, una delle prime cose è stato il fatto che il medico competente ha dovuto limitare quelli che erano le positività, i focolai nell'ambiente di lavoro e purtroppo la positività di molti lavoratori e l'isolamento di molti lavoratori ha per esempio creato un turnover dei lavoratori. Quindi una delle prime cose che il medico competente ha dovuto fare insieme al dottore di lavoro è stata la riorganizzazione delle attività lavorative, delle mansioni, c'è stato un controllo più particolare per quello che riguarda la positività, quindi la somministrazione di test in maniera continua, in modo regolare, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi doveva fare anche una formazione, quindi un'informazione è una formazione, cioè capire e far capire di utilizzare i dispositivi di protezione individuale come le mascherine e anche le distanze all'interno dell'azienda. Questo è stato all'inizio veramente tragico perché ha dovuto come dire all'interno delle aziende, ma in tutti i contesti lavorativi, cambiare proprio anche le postazioni di lavoro dove il lavoratore doveva entrare, doveva uscire, quindi proprio anche le piccole cose, questo sempre per evitare la diffusione di focolai. Certo, avendo poi una particolare attenzione anche per i soggetti fragili. Noi in questi giorni sempre con le cronache, vediamo quello che avviene a livello nazionale, dove vengono addirittura individuati soggetti fragili per poter essere sbarcati. Immaginiamoci quindi nel caso della pandemia l'individuazione dei soggetti più a rischio chiaramente determina poi quello che succede, determina le conseguenze stesse della pandemia. Assolutamente sì, per fortuna poi ci è venuta in aiuto la tecnologia con lo smart working, soprattutto per quelle possibilità di lavoro che potevano permettere appunto un lavoro anche a distanza, online, con il videoterminale, ma soprattutto ci ha permesso di chiarire, identificare, perché poi molti lavoratori si consideravano fragili, qualche lavoratore non si considerava, non sapeva di essere fragile, invece lo è, e quindi ci sono delle categorie ben precise, magari voglio ricordare che sono i pazienti oncologici, i soggetti che hanno un sistema immunitario depresso o soggetti che hanno delle sindrome cardiovascolari o comunque multiorgano molto gravi, quindi tre categorie diciamo principali e quindi l'attenzione del medico competente, del datore di lavoro è stata anche verso questo tipo di soggetti, assolutamente. Certo, dottor Lucchetti, il dottor Schembri ha utilizzato le parole chiave promozione e prevenzione. Promozione chiaramente è un qualcosa che riguarda la vita quotidiana per poter far sì che effettivamente gli stili di vita della stessa azienda siano favorevoli alle condizioni di lavoro. La prevenzione invece sottiene, come diceva giustamente il dottore, a regole ben precise. Ci sono delle leggi che regolamentano la prevenzione. La legge principale è il decreto legislativo 8108 che regolamenta la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, che va a determinare anche quali sono le responsabilità e gli adempimenti che deve adottare il dottore di lavoro. L'articolo 17 dell'8108 proprio obbliga il dottore di lavoro a valutare tutti i rischi all'interno dell'azienda, poi con delle modalità che prevede lo stesso decreto e andiamo a valutare tutti i rischi specifici, dalla movimentazione manuale dei carichi, dai rischi quali il rumore, le vibrazioni, il rischio chimico, il rischio cancerogeno. Perché a tutti gli effetti il dottore di lavoro è responsabile. Certo, il dottore di lavoro ha una posizione di garanzia verso la sicurezza del lavoro e come dice anche il 2087 del codice civile l'imprenditore è tenuto a valutare tutti i rischi e a tutelare la salute dei prestatori di lavoro e quindi lo fa attraverso tutta una serie di regole, una serie di valutazioni dove il medico del lavoro ha un ruolo centrale in quanto il dottore di lavoro collabora insieme al medico competente proprio alla valutazione dei rischi, rischi per la salute e per la sicurezza. Certo, in tutto questo rientra poi il servizio che offre Master Quality, cioè Master Quality dà la possibilità alle aziende di prepararsi al meglio all'interazione col medico ma soprattutto alla messa in pratica poi di quelle che sono tutte le regole per la prevenzione degli incidenti. Certo, infatti Master Quality nasce proprio con questa mission, quella di tutelare, dare un servizio a 360 gradi a tutte le nostre imprese e per far questo abbiamo all'interno della nostra struttura dei tecnici esperti per le valutazioni dei rischi, abbiamo una struttura sanitaria con la presenza di diversi medici come dicevo prima proprio perché attraverso questa organizzazione riusciamo a essere un supporto vero non solo a livello burocratico ma anche proprio a livello concreto per risolvere tutte le problematiche o comunque almeno in parte legate proprio alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro facendo proprio degli interventi anche strutturali, poi abbiamo anche dei collaboratori per quello che riguarda anche il ripristino di postazioni di lavoro, il miglioramento delle posture incongre, la diminuzione dei movimenti ripetitivi degli arti superiori, proprio è tutto un discorso collegato anche per prevenire le malattie professionali, quindi diciamo che il nostro compito è quello di formare il datore di lavoro a conoscere quali sono i suoi obblighi, quali sono le sue attività che deve svolgere all'interno della propria azienda in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, poi siamo anche di supporto per quel che riguarda la formazione dei lavoratori, noi all'interno della Master Quality abbiamo una struttura formativa anche accreditata dalla Regione Marche dove facciamo, ci sono quattro colleghi che svolgono solo questa funzione qua di organizzazione dei corsi per tutto quello che riguarda dall'articolo 37 dell'8108 che è la formazione generale specifica dei lavoratori, la formazione di tutte le attrezzature di lavoro fino anche al supporto dell'addestramento anche delle macchine attraverso poi gli operatori esperti all'interno delle varie aziende ma li mettiamo in condizioni, cioè noi facciamo il supporto per quel che prevede la normativa e anche le modalità come deve essere effettuata una formazione perché non è solo fare una formazione ma la dobbiamo documentare, dobbiamo anche preparare delle procedure che poi devono essere... protocollare tutto, dare proprio una procedura ben precisa. Esattamente. Dottor Schembri, l'ha detto il dottor Lucchetti, il medico del lavoro va in azienda anche per certi versi per sorvegliare, se non proprio per sorvegliare per verificare, però in realtà io credo che il medico va in azienda per collaborare. Assolutamente, la collaborazione è fondamentale, il medico competente è l'attore centrale e deve essere o avere comunque creare l'equilibrio tra il datore di lavoro e il lavoratore stesso. Molto spesso quello che viene sottovalutato nell'ambiente di lavoro è questa parte che è stata detta prima dal dottor Lucchetti, cioè la parte dell'informazione della formazione, dell'addestramento, che sono fondamentali perché si basano su una comunicazione che viene fatta al datore di lavoro e viene fatta anche al lavoratore, quindi il medico diciamo si trova a metà. Infatti interagisce anche con i lavoratori. Assolutamente. E una piccola parte che in realtà avrebbe un grosso successo per la limitazione di infortuni, malattie professionali, aumento del buon ambiente di lavoro, che è quello della promozione della salute che viene fatto veramente molto poco in generale, sul quale ci si adopererà, ci adopereremo e che è anche mirato perché per esempio può essere legato a una fascia, quindi lavoratore anziano, oppure a un ente, una categoria nella scuola, oppure per un argomento preciso, il fumo, quindi si può differenziare, oppure categoria di lavoro, si può fare per un impiegato, si può fare una promozione della salute legata alle problematiche della colonna vertebrale, quindi le posture, diverso per ad esempio chi guida o fa i turni dove si può fare una promozione della prevenzione cardiovascolare, in modo mirato. Abbiamo parlato qualche settimana fa di medicina personalizzata anche in questo caso per quello che riguarda la medicina del lavoro. Lucia Sgarzini, alla quale ci rivolgiamo per chiudere un po' questo nostro dibattito, non è scortesia farla parlare per ultimo, ma perché? Perché in realtà il ruolo di Confidi Unico è molto importante da un punto di vista pragmatico, concreto, perché interviene poi sul campo per mettere le aziende in condizioni di poter usufruire di questi servizi. Esattamente, infatti è giusto intervenire per ultimo perché fino a questo momento abbiamo capito che cosa abbiamo dovuto fare come imprese per reagire al Covid e che cosa dobbiamo ancora fare per evitare altre problematiche e per rimanere in termini di legge. Unico è un Confidi, quindi per sua stessa natura affianca le imprese nell'accesso al credito in particolare, ma nei momenti più complicati della loro vita. Quale momento più complicato dell'ultimo periodo rispetto a quando ci siamo trovati appunto investiti da questa pandemia appunto e senza sapere neanche bene come fare. Bene, fin da aprile del 2020 la Regione Marche ha individuato unico come soggetto che potesse gestire i primi aiuti per le imprese. Quindi lì dovevamo gestire un'emergenza che era anche di chiusura perché eravamo in lockdown, quindi lavori che non si potevano portare a termine, pagamenti che dovevano continuare ad essere sostenuti e comunque aziende che non avevano possibilità di lavorare e nell'immediato la prima misura che era stata gestita attraverso la legge 13 appunto della Regione Marche che è di aprile del 2020 è stata proprio una concessione di finanziamenti con fondi regionali, regionali, regionali delle Camere di Commercio e di Unico stesso, che quindi avesse la possibilità di intervenire proprio immediatamente, tempestivamente abbiamo cominciato a lavorare e a derogare questi finanziamenti. Successivamente o quasi da subito ma comunque successivamente la normativa ha avuto delle evoluzioni, è una normativa che ancora evalda e ancora opera e permette alle imprese di avere finanziamenti a costi inizialmente zero, poi nell'evoluzione diciamo che quando la pandemia si è un po' stabilizzata per comunque far fronte a una formazione, agli investimenti strutturali, alla sistemazione dei posti di lavoro eccetera, le aziende hanno bisogno e necessità di investire e questa normativa permette appunto di ottenere finanziamenti a costi, io dico sempre a uno zero virgola, cioè a costi veramente minimi e abbordabili perché viene rimborsato un contributo importante, un 70% degli interessi e un costo 100% del costo sostenuto per il confidi. Quindi Unico è intervenuto da subito, com'è sua natura come dicevo prima e continuiamo... Ma è sua natura forse in generale di CNA, perché anche Unico afferisce a CNA e CNA nel giorno stesso in cui si verifica il problema agisce immediatamente. Sì, Unico è espressione di tutte le associazioni di categoria del territorio, per cui è trasversale anche su tutti i tipi di attività e tra l'altro dal verificarsi della pandemia ad oggi l'evoluzione di Unico è stata importante perché ad oggi non siamo più il confidi unico della regione Marche ma il confidi più grande del centro Italia, avendo annesso anche la regione Umbria, l'Abruzzo e il Molise. Per cui abbiamo un'operatività veramente vasta, trasversale, grazie alle associazioni che permettono ai loro associati, insomma, di far conoscere questa realtà. Certo, allora ci avviamo alla conclusione. Un'ultima battuta col dottor Lucchetti, perché? Perché prima, in fase di pre-intervista, avevo sentito, diceva che lui sono 25 anni che lavora in questo settore. Quindi una grossa esperienza, una lunga esperienza. L'abbiamo accennato prima, le cifre degli incidenti sul lavoro sono comunque importanti e purtroppo non tendono a diminuire, anzi. Allora mi viene da farle questa domanda. In questi 25 anni, comunque, al di là di quelle che sono le nudi numeri, sono cambiate le cose? Si può davvero in prospettiva pensare che ci sia una sempre minore incidenza degli incidenti sui luoghi di lavoro? Perché è fondamentale. Una società civile non si può permettere 700 morti in 9 mesi. Sono pienamente d'accordo con lei. Sicuramente quello che posso dire, la CNA di Pesaro Urbino ha avuto sempre un ruolo centrale per quel che riguarda la sicurezza, ha sempre avuto veramente una particolare attenzione a queste tematiche. Infatti noi oggi possiamo aumentare una struttura di tutto rispetto, ma questo non basta. Non basta perché infatti noi ci facciamo sempre autocritica. Oggi è qua anche il Dottor Schembri perché vogliamo proporre delle cose nuove, proporre magari nuove non dal punto di vista della normativa, ma nella praticità delle cose nuove, dove vogliamo rimettere al centro della sicurezza, come è giusto che sia, il medico competente, che ha un ruolo fondamentale e dobbiamo tornare a fare una formazione vera ai lavoratori, una formazione specifica e una formazione reale, non una formazione solo di carte, di numeri e di commi che serve a poco. Serve a noi perché giustamente noi abbiamo un ruolo quello di supportare il Dottor di lavoro e dobbiamo conoscere la normativa, ma il lavoratore deve capire quali sono i veri rischi all'interno del luogo di lavoro e deve avere consapevolezza. Solo così possiamo ambire a un successo che noi dobbiamo perseguire perché la nostra mission è quella di tutelare la salute e la sicurezza, evitare le malattie professionali, evitare ovviamente le morti sul lavoro perché nel 2022 è inaccettabile. È inaccettabile. Siamo pienamente d'accordo. Non a caso la società si chiama Master Quality che in queste due parole racchiude tutto. Grazie a Massimiliano Lucchetti, grazie a Lucia Sgarzini, grazie a Gerlando Schembri. È stata una chiacchierata davvero molto interessante. Noi ringraziamo la CNA per averci dato l'opportunità di parlarne e farvi conoscere chi ci segue, chi ha avuto la voglia di seguirci fino in fondo. Queste tematiche sono fondamentali, lo ripetiamo, siamo nel 2022. È fondamentale affrontare tutte queste situazioni con grande consapevolezza e con grande senso civico. Buona serata a tutti da Rosini TV.